I Duran Duran e Victoria dei Maneskin insieme per la cover di Psycho Killer, un famoso brano del Tolkien Heds, fine anni 70. Natania Zevi. Ti chiama John Taylor e ti chiede di suonare insieme in una cover di Psycho Killer, il grande successo dei Tolkien Heds. Come fai a dire di no? Nasce così l'incontro tra Victoria De Angelis e i Duran Duran, lusingata lei, non meno prodigo di complimenti lui, che definisce la stella dei Maneskin la più importante bassista elettrica in circolazione. Probabilmente la più importante bassista elettrica in circolazione. Un fenomeno, quello dei Maneskin, che sembra non conoscere confini e che ha travolto il panorama internazionale della musica. Una consacrazione inarrestabile per i cantanti che dalle strade di Roma in pochi anni si sono trovati ad aprire il concerto dei Rolling Stones. Sua maestà Mick Jagger, solo pochi giorni fa, li ha definiti la più grande rock band del mondo.